Parliamo della gara anche con Daniele Pinto, una gara giocata bene della Gianna ma zero punti. Purtroppo sì, oggi abbiamo fatto forse la migliore partita in casa sicuramente, forse anche dell'anno. Comunque abbiamo giocato contro una corazzata, abbiamo impedito a loro di fare gioco, abbiamo avuto al primo tempo un paio di occasioni limpide dove potevamo fare gol. Quando non riesci a fare gol, dopo quell'occasione lì, con queste squadre qua, rischi di prendere gol. Purtroppo è stato su un episodio dove comunque in area avevamo noi forse in 7-8 persone l'ora, in 2-3. Ci hanno preso di sorpresa con quella giocata dietro all'inserimento. Dispiace perché oggi abbiamo fatto una gran partita. Ti preoccupa un po' questo fatto di spesso giocare bene, anche ultimamente, però fare pochi punti? Preoccupare no, perché comunque la squadra viene da buone prestazioni. Dobbiamo continuare così, con questa grinta, con questa voglia di far bene, di correre uno per l'altro, perché questa è la nostra differenza rispetto alle altre. di non mollare mai. Logico, mancano meno partite, siamo lì, stiamo lottando. Sappiamo che comunque il nostro obiettivo è la salvezza, quindi noi lotteremo per quello. La tua prestazione personale è un'altra ottima prestazione. Stai diventando uno dei perni di questa squadra. Te lo aspettavi all'inizio anno? No, io vengo comunque da un anno, tre anni fa, da un anno fermo. Sapevo che comunque avrei fatto un po' di fatica all'inizio, perché comunque dopo un anno fermo, senza mai giocare, ma a toccare la palla è un po' dura. Ho lavorato tanto e adesso sto comunque fisicamente, sto tornando, mi sento bene, sto tornando a quello di prima, diciamo.